Per prima cosa montiamo le uova con lo zucchero e il pizzico di sale. Dovrete ottenere un composto bello gonfio, così. Aggiungete il succo d'arancia, l'acqua a temperatura ambiente. Setacciate la farina, l'amido di mais e la mezza bustina di lievito per dolci e fate così man mano. Aggiungete l'olio e la scorza grattugiata di un'arancia. Versate in uno stampo imburrato ed infarinato 18 cm. Io poi ho arricchito il tutto con mezza mela tagliata a pezzetti, a cubetti, zucchero di canna sulla superficie e una spolverata di cannella. Portiamo in forno a 180 gradi, forno precedentemente preriscaldato, statico per circa 35 minuti. Fate sempre la prova a stecchino per accettarvi che il dolce sia perfettamente cotto. Eccola pronta, guardate la consistenza. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta, io vi lascio e alla prossima. Un bacio.